Taste Alto Piemonte, sabato 1 e domenica 2 aprile a Castello di Novara in Piazza Martiri, prima manifestazione del territorio dedicata alle eccellenze vinicole dell'Alto Piemonte. Due giorni dedicati alle denominazioni e alle zone vinicole del territorio. Oltre 140 vini in degustazione presentati dalle 45 cantine aderenti e 15 le aziende del settore food in rappresentanza delle eccellenze gastronomiche locali. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Facebook di Taste Alto Piemonte e sul sito del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte. Ben ritrovati cari telespettatori con l'appuntamento dell'informazione di Telegranda. Apriamo il nostro notiziario parlando di sicurezza e torniamo sulla serie di furti e rapine commesse a Farigliano negli ultimi giorni. Tutte di matrice diversa, hanno sottolineato i carabinieri, ma le indagini sono a buon punto. Ieri è stata anche ritrovata l'auto a riete usata per la spaccata al BAM. Lunedì 27 marzo un ragazzo in cerca di erbe selvatiche con il suo cane ha trovato la macchina utilizzata per la spaccata alla BAM di Farigliano. Era poco distante dal paese ma ben nascosta. I ladri l'hanno spinta giù da una riva e l'auto ha finito la corsa in una conca alle spalle del cimitero, non visibile dalla strada. Che fosse la vettura usata come ariete per il colpo alla filiale BAM lo hanno confermato i carabinieri dopo le prime verifiche. Poco distante c'era anche il cassetto dello sportello Bancomat fatto esplodere. Martedì 28 marzo la vettura è stata recuperata e sottoposto a sequestro. Una Opel risultata rubata a Torino. La notizia è stata anticipata alla cittadinanza dal Maggiore Danilo Barbabella, comandante dei carabinieri della Compagnia di Fossano, durante l'incontro pubblico organizzato per parlare di sicurezza. Indagini a buon punto, ha detto, anche se tutti i reati commessi a Farigliano negli ultimi giorni sono di matrice diversa. Restiamo sulla questione sicurezza, molto sentita anche a Cuneo, special modo dai commercianti. Le numerose spaccate notturne infatti hanno aumentato le preoccupazioni degli esercenti. Anche per questo motivo il presidente di Confcommercio Cuneo, Luca Chiapella, ha incontrato il nuovo questore di Cuneo, Giuseppe Pagano. Un piano di sicurezza partecipata. È uno dei progetti di cui Confcommercio Cuneo ha parlato con il nuovo questore Giuseppe Pagano nel corso di un incontro a cui hanno partecipato il presidente Luca Chiapella e il direttore Marco Manfrinato. Un'occasione per dare il proprio benvenuto e augurare buon lavoro al questore, ma la questione sicurezza non poteva non essere affrontata. Confcommercio Cuneo ha voluto ribadire e rinnovare la propria collaborazione con la questura con l'obiettivo di definire un piano di sicurezza partecipata che tuteli maggiormente la categoria. Innanzitutto abbiamo dato il benvenuto al nuovo questore, il dottor Giuseppe Pagano, che ritorna a Cuneo, era già stato presente nella questura di Cuneo, è stato un colloquio cordiale, anche molto proficuo, dove abbiamo ribadito la nostra piena collaborazione con la Polizia di Stato, comunque con tutti gli organi preposti alla sicurezza, anche perché già con il precedente questore, il dottor Pepe, avevamo avviato in collaborazione con il suo collaboratore, il dottor Chilla, che era presente anche all'incontro con il nuovo questore, abbiamo affrontato un po' le tematiche sull'escalation che c'è stata nell'ultimo periodo, mi riferisco anche all'anno scorso, all'inizio di quest'anno, soprattutto legata alle spaccate notturne, legata alla microcriminalità. Non ha voluto essere un incontro di allarme, perché comunque riteniamo che Cuneo abbia ancora un buon livello di sicurezza e un tenore di vita interessante, però abbiamo sensibilizzato il nuovo questore proprio su queste tematiche che comunque ci vengono trasferite dai nostri associati. Quindi Commercio Cuneo, per essere vicino ai propri associati, ha voluto ribadire questo suo impegno, che si è concretizzato anche con l'anno passato e abbiamo chiesto che venga anche fatto quest'anno degli incontri specifici proprio legati alla sicurezza anche nella sensibilizzazione dei nostri associati. Questo passa anche proprio in quello che la questura e comunque gli organi preposti parlano di sicurezza partecipata. Quindi dotare le attività commerciali, bar, negozi di videosorveglianza, in virtù anche di un accordo che noi abbiamo a livello nazionale, che questi impianti sono collegati con le centrali operative dei Carabinieri e della Polizia di Stato e permettono in pochi minuti di avere l'intervento in caso di rapina, o comunque anche in caso di spaccate notturne. Qual è la percezione e il senso di sicurezza che hanno i commercianti ultimamente? Sicuramente il paragone che questo aveva fatto con altre città anche molto più grandi dice che qui è più sotto controllo, però ha tenuto a farci presente che comunque l'attenzione sarà sul territorio molto alta in questo momento. E l'idea di migliorare i servizi di videosorveglianza sia pubblici che privati ha portato a Fossano alla firma di un protocollo d'intesa con il ministro degli interni allo scopo di contenere i costi per l'installazione di nuovi impianti. Prevenzione è la parola d'ordine del progetto Fossano Sicura, presentato nei giorni scorsi alla cittadinanza mette d'accordo commercianti, amministrazioni e forze dell'ordine dallo scopo di contrastare il fenomeno dei furti subiti in città. In 13 casi, nonostante fosse installato un sistema di sicurezza all'allarme, non ha suonato, ha ricordato nell'incontro pubblico il comandante Barbabella. Da qui la necessità di promuovere con una serie di incontri l'installazione di sistemi più avanzati di videosorveglianza connessi in rete e direttamente collegati alle forze dell'ordine. A Fossano è stato promosso un accordo che coinvolge ConfCommercio, Secure Shop e Ministero dell'Interno, in base al quale l'azienda Bergamasca, che offre sistemi di videosorveglianza agli esercenti collegati a caserme dei Carabinieri e Questura, li può vendere a prezzi più e agevolati. All'inizio le adesioni erano poche, ha raccontato Cristina Ballario, assessora al commercio, poi sono aumentate. Un anno fa ci siamo attivati per creare una rete, ha sottolineato Gianfranco Fruttero, presidente Ascom Fossano. ConfCommercio ha ottenuto a livello nazionale uno sconto del 50% sulle installazioni, la Camera di Commercio offre un contributo del 30% e tutte le spese si possono detrare. Al protocollo ConfCommercio, Secure Shop e Ministero dell'Interno hanno già aderito alcuni commercianti fossanesi. La Crolaca, un autotrasportatore di 40 anni, residente in Romania, è stato denunciato dai Carabinieri per furto. Il fatto è avvenuto a Bra, dove l'uomo si trovava per lavoro. In un centro commerciale della zona ha cercato di rubare capi di abbigliamento griffati per un valore di 300 euro. A notare il comportamento sospetto e a chiamare quindi il 112 gli addetti anti-taccheggio. Per il camionista i carabinieri hanno proposto il divieto di ritorno nel territorio braidese, la merce rubata invece è stata già restituita al legittimo proprietario. Sempre per la cronaca, operazioni per contrastare lo spaccio di droga e l'abuso di alcol, quelle condotte nei giorni scorsi dai Carabinieri di Saluzzo e Borgo San Dalmazzo, ma tra i reati denunciati c'è anche un caso di falsità ideologica in atto pubblico. Controlli a tappeto per contrastare reati predatori, ma anche abuso di droga e alcol nei conducenti sono gli obiettivi delle operazioni condotte dai Carabinieri di Borgo San Dalmazzo e Saluzzo. I militari di Borgo hanno impegnato 15 pattuglie per un totale di 30 Carabinieri. Tra gli interventi, oltre a due conducenti rispettivamente denunciati per guida in stato deberezza alcolica e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, anche una denuncia per danneggiamento aggravato in concorso. Autori del reato avvenuto a Largo Ancetera, due giovani residenti in zona erano stati notati lungo le vie del centro mentre provocavano diversi danni alle auto parcheggiate, distruggendo negli specchietti laterali per un totale di otto auto in sosta. L'intervento dei Carabinieri è stato provvidenziale, i danneggiamenti rischiavano di estendersi ancora, denunciati, sono stati riaffidati ai rispettivi genitori in quanto minorenni. I titolari di una discoteca della zona sono stati denunciati perché nel locale non erano rispettate le prescrizioni di sicurezza, il numero di avventori infatti superava di oltre il doppio e il massimo consentito. Droga invece al centro dei controlli dei militari di Saluzzo, a essere denunciato per detenzioni finiti in spaccio, un ragazzo di 27 anni, trovato in possesso di piccole quantità di marihuana e a casa si è scoperto un vero e proprio armamentario. I controlli antidroga si sono estesi in prossimità di locali notturni, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre giovani per detenzione di stupefacente per uso personale, sequestrando circa 5 grammi di marihuana e 5 spinelli artigianali già confezionati. Nello stesso contesto sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per volazione al codice della strada, un importo complessivo di quasi 6.000 euro, ritirando 5 patenti di guida e decurtando ben 70 punti patente. Due persone di nazionalità rumene invece sono state denunciate per furto, si erano impossessati di genere alimentari da un supermercato, l'area furtiva è stata restituita. Ma è emerso anche un caso di falsità ideologica in atto pubblico. Durante i controlli i militari hanno fermato un'auto di grossa cilindrata condotta da un ragazzo rumeno, il quale, risultato privo di patente di guida, ha esibito una denuncia di smarrimento della stessa. Gli accertamenti però hanno stabilito che il documento era stato sospeso dall'autorità rumene diversi mesi prima per infrazioni stradali. Nel capoluogo dove il comune vuole comprare dalla parrocchia la scuola di Frazione Passatore, 120 alunni, un costo annuale dell'affitto di oltre 28.000 euro per le casse del municipio. La decisione sarà votata dal prossimo consiglio comunale ed è stata presentata ieri pomeriggio, lunedì 27 marzo, alla Commissione Bilancio. 736.000 euro la cifra che il comune dovrebbe pagare per l'acquisto. Secondo l'assessorato all'istruzione il costo non inciderà sul pareggio di bilancio. Opposto invece il parere dei consiglieri Emanuele Isoardi, 5 Stelle, Gianfranco De Micheli, Spidi e Gigi Garelli, per i quali si tratta di una scelta azzardata. Restiamo a Cuneo dove venerdì sarà inaugurata ufficialmente la nuova biblioteca per bambini e ragazzi. In anteprima abbiamo visitato Palazzo Santa Croce che dopo la ristrutturazione è pronto ad ospitare il servizio comunale. La nuova biblioteca per bambini e ragazzi di Cuneo è pronta per l'inaugurazione. Avverrà venerdì 31 marzo con la grande catena umana che accompagnerà l'ultima parte del trasloco dalla vecchia sede in via Cacciatori delle Alpi a quella nuova che sorgerà a Palazzo Santa Croce. Precisamente al primo piano dell'ex ospedale di via Santa Croce, completamente ristrutturato, luminoso e coloratissimo nella sua nuova veste. Gli spazi della biblioteca sono divisi per fasce di età, 0-5 anni, 6-10, 11-14 e 15-18, ognuno con gli arredi e le tecnologie più adatte. Al secondo piano trovano invece spazio l'archivio del matematico Giuseppe Peano, alcuni uffici e il fondo antico della biblioteca civica, mentre nel sottotetto è stato allestito il deposito museale che sarà visitabile su prenotazione. Con la biblioteca prosegue l'inaugurazione dei vari interventi che abbiamo fatto con i fondi europei del PISU. In questo caso qui nella biblioteca abbiamo utilizzato sia fondi europei PISU che una parte dell'eredità Ferrero e quello che inauguriamo in questi giorni è il primo lotto perché il lavoro intero prevede il recupero dell'intero fabbricato qui di Santa Croce. Adesso con un primo lotto da circa 3 milioni di euro abbiamo fatto una serie di lavori strutturali su tutto quanto l'immobile e poi abbiamo preparato questi spazi per la biblioteca ragazzi, immaginando di investire in un momento in cui si parla poco di cultura, si investe poco in cultura, immaginando di fare l'investimento più importante dei prossimi anni su quella che deve diventare una fabbrica di idee. La prima visita insomma c'è soddisfazione per il risultato finale? Direi di sì, soprattutto perché questo è il luogo per le bambine da zero fino ai ragazzi più grandi ai 18 anni ed è un luogo pensato per loro soprattutto ed è bello pensare che una biblioteca parte proprio dai più giovani che rappresentano il nostro futuro. La lettura è stato sempre un punto di riferimento importante per la nostra città e riuscire ad avere anche un luogo adeguato perché non solo si prendano in prestito libri ma soprattutto si creino delle attività sia un luogo dinamico e vivace credo che sia un bel modo per segnare un investimento importante sulla cultura grazie ai fondi europei, grazie all'eredità di Giulia e Vanna Ferrero e speriamo che veramente sia un luogo vissuto perché è un po' l'augurio che ci facciamo perché credo che il luogo sia bello, colorato, vivace ma non avrebbe un'anima senza i bambini e le bambine. Domenica 2 aprile la giornata mondiale dell'autismo con diverse iniziative in programma anche sul territorio cuneese. Savigliano celebrerà la giornata già sabato 1 aprile a Palazzo Taffini con il convegno hashtag io ci sono progetti di vita per adulti con disabilità organizzato dall'associazione Airone di Manta. A Mondovì invece domenica ci sarà la prima edizione della corsa podistica non competitiva due passi per l'autismo aperta a tutti organizzata da Autismo Help con altre associazioni e con il patrocinio dell'Asle Cuneo 1. La partenza è prevista alle 10.30 in via dei Tigli 1. La cultura del tartufo è stata candidata con favore unanime della Commissione italiana come patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Per il risponso definitivo sarà necessario aspettare alcuni mesi ma il Vice Ministro Andrea Olivero pensa che ci siano ottime prospettive. Cultura del tartufo come patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. La Commissione italiana riunitasi al Ministero della Cultura ha votato all'unanimità la candidatura caldeggiata anche dal dicastero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il dossier sarà valutato nei prossimi mesi dall'organismo dell'ONU. L'iniziativa è stata seguita dal Vice Ministro Cuneese Andrea Olivero che sottolinea come ci siano buone probabilità che il riconoscimento venga ottenuto e afferma così valorizziamo un prodotto tradizionale per tante aree rurali del nostro paese. Nel mondo il tartufo è uno dei simboli più conosciuti della qualità made in Italy. Aggiungiamo, spiega Olivero, un nuovo tassello di promozione del nostro modello agricolo che si caratterizza per l'unicità del nostro saper fare, della nostra cultura, dei nostri prodotti. Una tappa importante anche per il tartufo bianco d'alba con la candidatura. Infatti, si riconosce non solo un prodotto della terra, ma un simbolo di una civiltà agricola e di una cultura capace di sviluppare uno straordinario rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale. Abbiamo dimostrato in questo modo attenzione alle aree interne, spesso ingiustamente considerate minori, ma nella realtà è in grado di esprimere eccellenza culturale e produttiva, prosegue Olivero. Alba, Colagna, Norcia e molte altre terre al nord, come al centro e al sud, nei secoli hanno sviluppato un patrimonio culturale che oggi è doveroso custodire e tramandare. Soddisfatto è pure Alberto Valmaggia, assessore regionale all'ambiente, alla programmazione territoriale e paesaggistica e proprio alla tartuficoltura. Da piemontese da Cuneese dice Sono orgoglioso della candidatura che si inserisce nel lavoro che a livello di regione stiamo portando avanti per la valorizzazione del territorio. Il tartufo di Alba è l'ambasciatore nel mondo delle nostre terre e la sua promozione vuol dire anche promozione del territorio dal punto di vista paesaggistico. Una grande opportunità. Lo sport si è disputato al palazzetto di Via della Croce di Saluzzo, il torneo di pallavolo delle scuole della zona di Saluzzo, Savigliano e Fossano. Solo tre gli istituti scolastici partecipanti, il Bodoni di Saluzzo accompagnato dal professor Flavio Parussa, il Soleri di Saluzzo con il docente Giuseppe Balzo e l'ancina di Fossano con il docente Giorgio Giraudo. La classifica finale ha visto al primo posto le saluzzesi del Bodoni, al secondo quelle del Soleri e al terzo le ospiti di Fossano. Appuntamento a Cuneo per la finale provinciale a quattro squadre il 6 aprile alla quale si qualifica il liceo Bodoni di Saluzzo. Ancora lo sport con il tennis. Il famoso coach di tennis internazionale Riccardo Piatti è stato a Cuneo, ospite del Michelin Sport Club per uno stage con alcuni ragazzi. È stata l'occasione per chiedergli un giudizio sul tennista che attualmente segue, il canadese Raonic, e per l'immortale Roger Federer. Al momento sta seguendo Raonic, quali sono i margini di miglioramenti, di crescita ancora di questo tennista che può davvero diventare probabilmente il numero uno al mondo almeno, così si dice, e vista l'età ci sono le prospettive? Il problema di Milo è che riesca a giocare un anno intero sano. Io credo che il potenziale suo è molto alto, il problema è di gestirlo, avere la capacità di gestione di questo atleta, quindi gestirlo vuol dire riposo, allenamento e competizione. È ancora giovane da questa parte perché non si conosce perfettamente, non conosce ancora che cosa succede nei match importanti, nei tornei importanti, dove i consumi sono molto alti, questa gestione, questo bilanciamento credo che possa fargli fare la differenza e far sì che possa esprimere il suo potenziale. Ultimissima cosa, chi invece conosce benissimo queste dinamiche è Roger Federer, che insomma non si può non parlare del grande ritorno di questo campione, che tanti davano per finito invece sta vivendo una seconda giovinetta ed è sempre un piacere vederlo giocare. È un grandissimo piacere vederlo giocare, oltretutto è seguito da Ivan Liubdicic, che io ho allenato per 17 anni, quindi è anche piacevole anche per quello. È anche un po' merito suo quindi? No, 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 è un merito, sono due persone molto intelligenti, è quello che dicevo, conoscono benissimo il circuito, conoscono benissimo le potenzialità di Roger e distribuiscono questo suo potenziale nell'interno dell'anno. Sono stati molto bravi l'anno scorso a fermarsi in un momento in cui Roger non era competitivo e adesso sono pronti, freschi e sono più competitivi degli altri che giocano. Grazie, grazie. Per il momento dalla redazione di Telegranda è tutto, noi naturalmente vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo l'appuntamento con Granda Mattina dalle 7 alle 8.30 domani mattina. Buona serata. Domenica 2 aprile a Saluzzo torna la mezza del Marchesato, mezza maratona tra i frutti in fiore, quarta edizione prima nazionale con atleti provenienti da tutto il nord Italia. Da quest'anno la Eviso Run diventa 10 km con le sezioni competitiva e amatoriale, iscrivetevi entro il 29 marzo. E la festa comincia sabato 1 aprile con la mini mezza e pli, pomeriggio sportivo aperto ai bimbi dai 5 ai 13 anni. Informazioni e iscrizioni su www.lamezzadelmarchesato.it Taste Alto Piemonte, sabato 1 e domenica 2 aprile a Castello di Novara in Piazza Martiri, prima manifestazione del territorio dedicata alle eccellenze vinicole dell'Alto Piemonte. Due giorni dedicati alle denominazioni e alle zone vinicole del territorio. Oltre 140 vini in degustazione presentati dalle 45 cantine aderenti e 15 le aziende del settore food in rappresentanza delle eccellenze gastronomiche locali. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Facebook di Taste Alto Piemonte e sul sito del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte.